Ciao a tutti amici dal vostro Jumpy. Allora, ieri ancora non me la sono sentita di fare il video perché per motivi personali non me la sono sentita. Magari lo spiegherò più avanti in altri video quali sono stati i motivi. Niente, della partita di ieri della Samp, allora cosa si può dire? Sicuramente il primo tempo penoso da parte della Samp non un tiro in porta. Il secondo tempo e i primi 20 minuti sono stati come il primo tempo. Gli ultimi 25 minuti la Samp ha cercato di pareggiare e forse anche lo meritava per come ha giocato gli ultimi minuti. Ma non ci è riuscita. Quei minuti in cui abbiamo giocato bene sicuramente hanno influito molto i cambi. Devo dire che i cambi che sono stati Ekdal e Saponara hanno portato molta più qualità, molta più sostanza. E quindi secondo me si meriterebbero già un posto da titolare. Barreto in quel ruolo non si può vedere. A mio avviso non si può vedere. Murru, io spero che Tavares sia pronto per la prossima perché comunque, ripeto, i giocatori hanno detto che Murru aveva fatto un'estate bellissima, a me ieri onestamente. Cosa dire di Audero? Audero non è stato impeccabile ieri, però Audero credo debba trovare ancora quella sicurezza. È un giovane portiere e secondo me è anche un buon portiere. ha fatto vedere di avere dei buoni riflessi. Sul gol forse poteva evitarlo sul tiro di De Paul, anche se comunque un minimo era coperto. Comunque ho fiducia io in questo portiere e non si può condannare alla prima. E niente, cosa dire? Poi De Frelle è andato anche vicino al gol, oltre a quello non è che abbia fatto chissà che. Quagliarella ieri, mi dispiace, ma purtroppo è stato inoperoso. Niente, vediamo, speriamo. Speriamo che la Samp possa crescere, che la Samp sia quella degli ultimi 25 minuti. Perché se la Samp fosse quella dei primi 65-70 minuti, c'è veramente da rischiare quest'anno. Anche perché comunque le altre, che in teoria dovrebbero essere sulla nostra fascia, hanno fatto vedere comunque la Fiorentina o comunque anche il Genoa ieri, anche se con l'Empoli. Può sembrare una partita facile, ma non lo è mai. Quindi vediamo, anche se la prossima partita sarà un impegno difficile a Marassi, ma noi rimaniamo fiduciosi. Niente, cosa dire? Vediamo anche i nuovi acquisti, come si inseriranno. Certo che l'assenza di Dennis, di Pratt, è un'assenza pesante, perché io ritengo che sia il giocatore con maggior qualità che abbiamo e di un livello calcistico, secondo me, sopra la media. Quindi è un'assenza molto pesante quella di Dennis. Stiamo a vedere cosa succede e speriamo bene già dalla prossima d'America. Ciao a tutti!